Ciao a tutti ragazzi, qui Lele e bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un video un po' strano, vabbè, è il video ragazzi per farvi gli auguri di buon Natale perché ormai idratare alle porte e niente ci tenevo a fare questo piccolo e brevissimo video per augurare le più buone feste per farvi gli auguri anche se sono a letto pronto per andare a dormire e niente volevo anche avvisarvi, dirvi che c'è in cantiere per modo di dire un nuovo official video, si tratta di Billie Jill, quindi aspettatevi nei prossimi giorni di beccare il video, cioè di vederlo online e insomma è un periodo un po' così, infatti sono molto inattivo e mi dispiace tantissimo ma anche ad esempio per il progetto di Invincible per adesso non posso continuarlo perché ho da fare, mi sto dedicando ad altre cose e mi sto dedicando all'ufficial video, al prossimo official video di Billie Jill, quindi per un in Invincible diciamo che è in stallo, lo continuerò però prossimamente nel 2016, cavoli siamo nel 2016 quasi quindi ci sarà anche la nuova foto all'inizio di intro del canale, quest'anno è raviola, restate sintonizzati per vedere il prossimo anno come sarà la nuova foto e niente, questo voglio dire, ovviamente saluto tutti quelli che mi seguono e che mi sostengono magari che continuano a seguirmi e vi invito a iscrivervi anche alla pagina ufficiale su Facebook delle Jackson in caso non siete ancora iscritti e vi volevo ringraziare anche per i 1600 iscritti, più di 1600 iscritti raggiunti qui su YouTube, grazie di cuore, non l'avevo ancora fatto, ve lo faccio adesso, e niente io vi auguro ancora un buon Natale, fate quello che volete, mangiate dolci, fatevi venire mille carie e godetevi questo nuovo Natale, un bacio, iscrivetevi e commentate, se vi è piaciuto il video lasciate un bel viaggio, ciao ragazzi e Michael forever. Grazie a tutti.